Grazie a tutti Accenno destro In sinistra 4, 20 Destra 3, chiudeci la lunga In sinistra 4 In sinistra 4 Per destra 5, 50 Destra 5, corta, 60 Accenno sinistro per destra 4, lunga 4, lunga, 40 Destra 4, lunga Per sinistra 4 Per sinistra 4, 50 Destra 5, 40 Sinistra 4 Per sinistra 4, chiude 3 4, chiude 3 Per destra 4 Per destra 4, meno In sinistra 4, lunga, 2 tempi 40, destra 5, 40 Destra 4, meno gira 80 Sinistra 4, corta, 70 Sinistra 4, corta, 70 E sinistra 3, giudeci la lunga Sinistra 3, giudeci la lunga Stai a sinistra, 40 Stai a sinistra, 40 Destra 4 E destra 4, e destra 5, 40 Destra 4, lunga E sinistra 5, 50 Sinistra 4, e destra 5, lunga Chiude 4, meno Per sinistra 4, meno Per sinistra 4, chiude 3, lunga 30 Accenno destro E accenno sinistro E accenno destro Per sinistra 5, meno lunga Per destra 5, 80 Per destra 5, 80 Dosso in sinistra 600 Accenno sinistro Per destra 5 Per destra 5 Per accenno destro 50 Accenno sinistro 40 Destra 5, meno 50 Accenno destro 50 Tornate destro 50 Tornate destro 50 Accenno sinistro 50 Sinistra 6, 50 E array sinistra 4, 50 Accenno sinistro E destra 5 E accenno sinistro 60 Sconnesso Sconnesso Destra 5 40 Sinistra 4, meno 30 Destra 4, gira 30 Destra 5 60 Accenno sinistro 50 E sinistra 5, lunga 100 Destra 5 E sinistra 4, scende Destra 5 E sinistra 4, scende 80 80 Destra 5, 80 250 Accenno sinistro Per sinistra 5 Per sinistra 5 100 E al cartello Stacca Tornate destro 100 Accenno sinistro 100 E accenno destro Per destra 5 120 Sinistra 3, chiude 2, lunga 50 Sinistra 3, chiude 2, lunga 50 Accenno destro 100 Accenno sinistro Accenno sinistro E ai cartelli Destra 2, 2, tempi lunga Destra 2, 2, tempi lunga 40 Questa è la seconda 40 Accenno sinistro 50 E sinistra 4 Per destra 5 Per accenno destro In sinistra 4, chiude 3 Tonda 60 Destra 4 50 E sinistra 4 50 Accenno destro In sinistra 4 E destra 5 Taglia 50 E sinistra 4 50 Sinistra 4 In attenzione Tornate destro Leva stretto Tornate destro Leva stretto Accenno sinistro 50 Destra 4 50 E alle case Sinistra 5 Meno lunga 50 Destra 5 Lunga chiude 50 5 lunga chiude 50 E accenno sinistro Intornate sinistro Leva Destra 2 100 Meglio di 2 E scivola Addosso sinistro 70 sinistri 50 E accenno destro E sinistra 5 Meno 60 Destra 4 Taglia Destra 4 Taglia Eccolo qua 50 Sinistra 5 Per destra 4 Taglia 50 Accenno destro Per sinistra 4 Per destra 4 Corta Per sinistra 4 Chiude Buco interno Non tagliare E accenno destro 50 Sinistra 4 Per accenno destro 50 Accenno destro In sinistra 3 Corta Per accenno sinistro 70 Destri In destra 5 In sinistra 4 60 Destra 4 30 Sinistra 5 Lunga lunga Al palo Apre 60 5 lunga lunga Al palo Apre 60 E destra 4 Per Accenno sinistro In destra 4 Per sinistra 3 Lunga lunga Chiude In destra 5 Lunga Per sinistra 5 Meno lunga Per sinistra 5 Meno lunga Per destra 6 Chiude 4 Per destra 6 Chiude 4 Per Sinistra 4 Meno In destra 2 Stringe Per destra 5 In sinistra 4 E accenno destro E sinistra 4 100 Destra 5 70 Destri E sinistra 4 Per accenno destro Per accenno sinistro In alla chiesa Sinistra 4 Chiude 3 Sinistra 4 Chiude 3 In accenno destro 30 Sinistra 4 50 Destra 5 Lunga 50 E al muro Accenno destro Chiude 3 Accenno destro Chiude 3 Sporco Per Arre Sinistra 3 30 Sinistra 3 50 Accenno destro 80 Destra Al palo E sinistra 4 Sconnesso 50 Sinistra 4 Sconnesso 50 E accenno destro In sinistra 5 Meno In destra 4 Per sinistra 5 Meno Per tornate destro Largo 80 Tornate sinistro Tornate sinistro Per Destra 4 50 E al lampione Sinistra 4 50 Sinistra 4 Più 50 E destra 4 E destra 4 50 Tornate destro Stretto Per tornate sinistro Per tornate sinistro Accenno sinistro Per tornate destro Per tornate destro In sinistro In sinistra 5 5 Vai 8 8 8 847 7 847 847 847 847 847 947 947 Grazie.